Sì, lì abbiamo davvero credo toccato il fondo, ci siamo guardati, abbiamo fatto una riunione e abbiamo detto ragazzi qua c'è da voltare pagina, non guardiamo indietro, abbiamo sbagliato tutto, ora rimettiamoci a lavorare, sappiamo di essere bravi ma dobbiamo dimostrarlo, il nome non basta. No, no, io sono sempre stato chiaro, Pescara mi piace, mi piace il progetto, mi piace la squadra, lo staff, l'allenatore, tutti quanti, quindi quando uno si trova bene perché cambiare. Sì, Pippo è un gran giocatore, mi trovo davvero benissimo, non me l'aspettavo di trovarmi davvero così bene, poi continua a crescere molto bene, continua a giocare, anzi le ultime partite ci ha portato punti da solo. È un gran compagno di reparto, ne approfitto tra l'altro per fare anche le condoglianze per la perdita che ha avuto, anzi sta andando oltre le più rose aspettative. Cerchiamo di continuare su questa via, non molliamo di certo. Noi abbiamo sempre creduto nelle nostre potenzialità, sapevamo di avere una grande squadra e non l'ho mai messo in dubbio. Ora le stanno venendo fuori, se non fosse stato per l'inizio del campionato con più bassi che alti, adesso staremo in un'altra posizione. Non bisogna fare questi stessi errori e fare un giro nel ritorno migliore del primo. Ho visto davvero un gruppo, non solo a livello tattico, tecnico, ma proprio a livello di squadra, cosa che raramente ho visto. Appena ci siamo conosciuti tutti e abbiamo iniziato a familiarizzare, i risultati vengono di conseguenza. C'è proprio un'unione forte, l'ho visto da un milione di cose. Stiamo notando che la Serie B è un campionato molto strano, dove il più delle volte chi non gioca ottiene risultati. E purtroppo noi eravamo dall'altra parte. Adesso però le qualità stanno venendo fuori, era inevitabile che sul lungo andare il calcio premia sempre. Quindi ora noi stiamo facendo bene. Se continuiamo così credo non torneremo mai. Non ci siano problemi per, stavi aggiungendo? No, non ci siano problemi come quelli che abbiamo passato fino a un mese fa.